Io dico da molti anni che c'è una quinta abilità e la quinta abilità è la capacità di pensare, di adoperare le parole per pensare e di sapersi raccogliere in se stessi per pensare a quello che si legge, che si scrive, a quello che si fa, a quello che si vede. E questa capacità di pensare richiede tempo, richiede calma, richiede un ambiente sereno e aperto, aperto alle esperienze del mondo. Rodari diceva c'è una scuola grande quanto il mondo e bisogna sapersi aprire a questa scuola, ma pensando che si lawa, perché l'esmogliere sia la scuola grande. Perche, la cosa che ci faccio è trazie a quella che si costrava di pensare,